Ciao a tutti, mi chiamo Marco, ho 51 anni e ho iniziato a suonare la chitarra classica ed acustica da autodidatta quando ero ragazzino. Purtroppo poi per vari motivi, come penso sia capitato a tantissimi di noi, negli ultimi anni non ho avuto il tempo di dedicarmi alla musica, ma lo scorso Natale ho coronato il mio piccolo sogno nel cassetto e mi sono regalato una chitarra elettrica. Ovviamente dopo anni di inattività mi sono subito reso conto che avevo accumulato un bel po' di ruggine e praticamente non ero più capace quasi di suonare. Quindi ho fatto come fanno tanti e ho cominciato ad andare in cerca su internet di video tutorial per riprendere a fare un po' di esercizi e magari imparare qualche qualche brano. Ed è stato così che sono incappato praticamente nei video di David, che è questo, che è lui, il quale mi ha fatto un'impressione molto positiva e quando ho proposto l'iniziativa del Guitar Sniper Club non ci ho pensato un secondo praticamente e ho aderito immediatamente. Credetemi, ve lo giuro, è stata una delle cose migliori che ho fatto negli ultimi anni. David, devo dire che oltre che ad essere un bravo musicista, è una persona davvero incredibile, la cui forza oltre che nell'insegnare sta anche e soprattutto nel saper trasmettere passione e motivazioni. Poi nel Guitar Sniper Club ovviamente ho incontrato solo virtualmente per il momento, ma chissà che magari un giorno ci si incontri anche davvero, delle altre persone praticamente con le quali condividiamo la stessa passione per la chitarra, per la musica e devo dire che questo modo poi di studiare in gruppo è molto stimolante. Niente, per concludere posso solo dire che sono veramente tanto 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 contento di essere entrato nel Guitar Sniper Club, quindi bravo David, bravi amici cecchini, continuiamo così. Ciao a tutti!